Non so se riuscite a vedere, ho un cartoncino verde e praticamente tutto intorno ho messo e ho fatto un bordo con lo scotch per essere più precisi, lo scotch di carta è vengolato nel tavolo, bianco è possibile sfumare con l'essenza di trementina, praticamente questo colore però non so se lo sfumerò, forse lo sfumerò così, ovviamente col dito è anche possibile sfumarlo, oppure con lo sfumino giallo ho letto sul libro che per fare la punta, praticamente questi che sono parecchio duri di usare un coltello, un trincetto per avere la punta fine sto usando un po' di colore, fino adesso ho usato il giallo, il bianco, il verde, il verde scuro e il giallo più chiaro, questo è un giallo più chiaro poi c'è un giallino un po' di scuro bianco verde abbastanza chiaro un po' acido e un verde scuro verde oliva mi verrebbe tosare anche un po' di rosso rosso vediamo cosa tiene è possibile sfumare tra di loro i colori quindi scuro scuro bello bello ruffetto ecco 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 e non poter cuore un nuovo bianco è bello, posso lasciare anche che si veda il cazzoncino sotto colorato e spingiamo come viene un nuovo bianco 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 la sfumatura è sfumabile se non è possibile sfumarlo per avere sfumature più delicate solo con un pennello o un po' un umidito con la trementina un po' di nero 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 avrebbe poi da scrivere qui in fondo qualcosa lascerò le foto di come è finito grazie per aver visto ciao grazie a tutti